Musica Io sono Diamond, qua siamo a Giardini Naxos, non fa altro che piovere e ieri ho finito il mio ultimo muro, sono praticamente due enormi capolettere che si affacciano in maniera speculare su questo lunghissimo muro che sta sulla via nazionale una delle vie più trasfigate del posto e niente, la cosa che mi è piaciuta di più è stato dipingere nell'unico momento in cui non pioveva e soprattutto riuscire a chiudere queste due lettere che si guardano una dentro l'altra con all'interno una figura di una ragazza sognante che guarda verso l'aldilà sono abbastanza soddisfatto Musica